se quello è che ti fa la foto no quello fa, tu ti rifà il video ti sto facendo un video adesso appena schiaccio stop al video ti faccio vedere cosa vuol dire ti attacco come una scena ti tratto come un'attrice nonna ti riprendo ma è che maschio è questa scelta un gilet